E restiamo in atmosfera napoletana, anzi caprese per la verità, con il Mambo di Peppino Di Capri, brano tratto dal suo nuovo album, Voglia di Tre. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Per concludere vi diciamo che per la disperazione di milioni di fans una delle Spice Girls, inutile che vi dica chi siano, sono il gruppo musicale del momento convolerà presto a nozze. Per chi ha in vista il matrimonio, permella la ragazza di colore del quintetto Canoro a confermare la notizia il promesso sposo che è un ragazzo irlandese che da tempo è il suo fidanzato. Secondo le ultime indiscrezioni il matrimonio sarà celebrato il prossimo 8 di agosto in Gran Bretagna. Adesso la linea passa alla rete con la sesta e ultima puntata di Racket Michele Placido alle prese con un affare di droga. Tg2 Notte alle 23.30. Grazie a tutti, arrivederci. Anche i momenti più teneri possono avere le onde di Viennetta. Gelato cremoso fra sfoglie croccanti. Viennetta Algida, sul più bello, arriva l'onda. Questa è la valle d'Aosta e sapete come la chiamano? La Vallée. La Vallée, capite? Ma dico io, ci sono le montagne più alte d'Europa, le alte vie, passeggiate per tutti e pascoli meravigliosi. Ciao, ciao, via. E la chiamano la Vallée, ma chiamatela Montagnée. Valle, Vallée, Montagna, Montagnée. Ci sono mille valli, ma una sola è la Vallée, la Valle d'Aosta. E gli Stambecki? Dove stanno gli Stambecki? I Montagnée. E le marmotte? Fate installare un automatismo FAAC al vostro ingresso. Automatismi FAAC. Il movimento ha il suo re. C'è la freschezza ghiacciata e c'è la freschezza delicata. Tic-tac, veramente a vero gusto, vero piacere. Tic-tac, la freschezza è sull'albero. Nel cielo, l'acqua è uguale per tutti, ma è nella roccia che diventa preziosa. Acqua vera, l'acqua oligo-minerale, ideale tutti i giorni. Bevete benessere. Acqua vera, acqua pura, il dono intatto della natura. Dove è andato l'otto per mille dell'IRPEF destinato alla Chiesa Cattolica? Qui. Guardi, sono tutte persone senza tetto, ma da noi hanno trovato molto più di un tetto. Perché far destinare l'otto per mille dell'IRPEF alla Chiesa Cattolica? Perché aiuta i bisognosi e porta ovunque speranza e conforto. E se arrivano abbastanza offerte per il sostentamento, può fare ancora di più. Firma anche quest'anno nella casella Chiesa Cattolica sulla dichiarazione dei redditi. È il tuo aiuto alla tua Chiesa. Sapete che gli spettacoli dei Romani duravano anche tre giorni? Sì, ma negli intervalli? Bruscolinos, bomboloro, maxibonus. Cuoco è tu, maxibonus. Eh, gelatus, historicus. Con questo, Cesar decideva. Granellus sopra, vivus. Sottus, neones. Ok,ius. Maxibonus, motta, dugustibus, è meglio che unus. Cu vadis staseras? Nuova avia sei. Continuate a immaginare. Macine murino bianco. Il giusto spessore in un biscotto tutto da inzuppare. Per un piacere unico tutto da gustare. Macine murino bianco. Chi mangia sano, trova la natura. Diverse persone, diversi One Day. Da Bayer, gli integratori specifici di vitamine e minerali per ognuno di noi. One Day, giusto per te. Su Rai 2, ogni venerdì alle 20 e 50. Ci ritroveremo qui per fare ancora tutti quanti insieme... Furore! Ciao a tutti! Ciao! Guido... It's Extra! It's Extra! It's Extra! It's Extra! It's Extra Large! Marxicono! Marxicono. Vivere Extra Large. Un risotto perfetto riso gallo blonde. L'abbiamo creata pensando a loro. E per questo Ecolusion è morbida, resistente. Ma accetti più. Ecolusion ha una confezione così speciale che si scioglie. con un poco d'acqua ed è biodegradabile. Ecolusion, con confezione idrosolubile e carta igienica e anche carta casa. Ecolusion, più contento tu, più pulito il mondo. Tutta la cremosità e il gusto del vero tiranissù sono racchiusi nel gelato Cardor. Cardor, solo gustandolo puoi capire. Da Algida. Che morbida sensazione di seta. Ora è tua con Gillette Sensor Excel Purell. Senti che controllo con l'esclusiva impugnatura antiscivolo. Senti come le microlette protettive accarezzano con sicurezza la tua pelle. Sensor Excel Purell. Senti la differenza. Macine Murino Bianco. Il giusto spessore in un biscotto tutto da inzuppare. Per un piacere unico tutto da gustare. Macine Murino Bianco. Chi mangia sano trova la natura. Granarolo, perché se non è fresco? Che latte è? La spessore ha chiuso per sempre. È ora di partire. Ma è cacao. È latte il cacao, James. Sì, ma è freddo. Novità. E si può bere anche caldo. Roba da ragazzi. Grazie. Io lo bevo sempre a così poche calorie. È buono. È un pazzire. Granarolo. Tutto il fresco che vuoi. Cose di casa. Il giornale con idee e costi indirizzi per far bella la tua casa e scegliere bene spendendo il giusto. In cose di casa. Come avere un bagno più grande? Ecco nove progetti. Recuperare spazio nelle case piccole con 45 nuovi mobili. Come ricavare un ripostiglio nel controsoffitto dietro il letto nascosto in una colonna. 40 idee per terrazzi e balconi. Condizionatori antifurto. Come sceglierli bene? Fai da te facile. Rinnova il tuo bagno con poca spesa con i fogli di mosaico. Tre nuove case con tante idee da copiare. Cose di casa. Il giornale per vivere bene la tua casa. Nulla può freddarti la mente come Solero Algida. Sorbetto di frutta esotica e gelato alla vaniglia tutto in uno. Solero Algida. Zero gradi mentali. Placca. Cengibiti. Tartaro. Sinceramente avevo in testa una grande confusione. Poi il dentista mi ha consigliato un dentifricio antibatterico. Ho scelto la protezione globale di Yodosan. Yodosan è efficace contro i batteri per un'igiene orale completa. Io? Io scelgo Yodosan. Protezione globale. Arrivederci da Parmigiano Reggiano. Macau. Qui fra poco. Senza cambiare canale dico perché sennò è peccato. Peccato. Grazie. 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 Dall'esperienza del Racing Team Aprilia arriva Stent. Fischia, è un aereo. Stent, il nuovo record da battere. Buongiorno, ormai mi conoscete. Sono Caffè Splendid. Per mille caffettiere. Arzilli i bambini al mattino, vero Anna? Adesso ci provo io a farti sorridere. Così, con l'aroma che nasce dai miei chicchi, tostati con cura fino al cuore. Ecco, questa è l'Anna che mi piace. Però adesso smettila di fare la bambina. Splendid, l'avvolgente aroma del buongiorno. Che facciamo da mangiare? Un gioco. Ma io ho fame. Un gioco appetitoso. Si fa con gli occhi e insalata. Yocca e pomodori. Yocca e gamberetti. Con Yocca puoi preparare tutti i piatti che vuoi. Si mangia! Yocca, il gioco più leggero che c'è. Fate installare un automatismo FAAC al vostro ingresso. Automatismi FAAC. Il movimento ha il suo re. Nulla può freddarti la mente come Solero Algida. Sorbetto di frutta esotica e gelato alla vaniglia tutto in uno. Solero Algida. Zero gradi mentali. Ho spedito una lettera per il diciottesimo compleanno di mio figlio. Cosa c'è di strano? Mio figlio nasce fra una settimana. Future Post recapiti nel futuro. Numero verde 167 661122. Cereali aggregati essere? Buoni devono essere buoni. Buonissimi! Ma se si insuppano nel latte caldo senza diventare poltiglia, giuro che mi vesto da donna. Oh oh. Dall'unione tra il miele e i fiocchi di cereali, nascono i cereali aggregati essere. Ma se si insuppano nel latte caldo senza diventare poltiglia, giuro che mi vesto da donna. Ma se si insuppano nel latte caldo senza diventare poltiglia, giuro che mi vesto da donna. Lì non c'è, chi c'è c'è, chi non c'è, non c'è. Anima mia Ma che musica, che musica, che gozzo è Che la vita, la vita Noi siamo fine Le stelle Sandokan Questa è la canzone intelligente Caratapunsi E il muro Unito Anima mia Anima mia Il gioco è un disco di Claudio Baglioni Contro il logorio della vita moderna La domenica sera Chiudete il gas e Accendete Rai 2 Ambra Angiolini e Calimero presentano Carosello Domenica 20 e 50 Rai 2 E dopo Tutti a nanna Domenica 20 e 50 I like it Up and down . I like it up and down I like it, 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 up and down. Up, 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 up and down. I like it, I like it, I like it, up and down. Up and down. Buonasera, buonasera, come sta? I like it, I like it, I like it, I like it.